ciao da absim eccoci per un nuovo appuntamento un appuntamento in diretta che vuole essere una rubrica settimanale per affrontare degli argomenti specifici e oggi come vedete dal titolo come vedete da tutto quanto questo streaming anche con una novità di inquadratura e anche una novità grafica di questi di questi appuntamenti in diretta se vi piace fatemelo sapere parliamo parliamo di twitter stasera parliamo di twitter in particolare perché ci sono tante cose che sono venute fuori su twitter in queste ultime ore che non devono assolutamente sfuggire delle quali voglio parlare su questo canale e allora eccoci qui riuniti lunedì alle 21 vi piace questo appuntamento tendenzialmente fisso per l'estate per sopperire alla mancanza delle partite della juventus che ci mancano già no non è vero per affrontare questi argomenti e questa nuova rubrica c'è anche la chat vocale pronta carica disponibile a dire la propria tramite discord livello titolari e livello dirigenti absim fc per chi volesse entrare con l'abbonamento c'è tutto spiegato nella chat qui di fianco e anche in descrizione e allora saluto nicolas francesco livio simone mattia fabio silvia e simone buonasera ragazzi buonasera 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 ci sentiamo forte chiaro è che c'è stato un piccolo problema tecnico prima mentre cercano di organizzare e buonasera a tutti in chat gaetano benvenuto anzi upgrade probabilmente per per il buon gaetano nella nostra community quindi sale di livello e può entrare se vuole anche in chat vocale tramite discord ciao marco mike dibala che parla con zanetti sì perché poi c'è questa partita con eto oggi non so se la guarderete io ho detto vabbè lasciamo stare facciamo un contenuto sulla juve perché ci sono delle tematiche importanti poi tanto non penso che oggi fronte dibala ci sarà qualche svolta di mercato e comunque ormai non ci interessa perché purtroppo o per fortuna a seconda dei punti di vista non è più e non sarà più un giocatore della juventus dice lux siamo diventati chiacchiere proclami vuoti faremo mi faremo miglioreremo ci impegneremo vinceremo si è visto lo spirito che pervate tutti nell'ultima partita avete visto la rabbia la voglia di rivalza direi direi proprio di no non abbiamo visto la grinta di ibrahimovic che sbatte per aria il tavolo e dice il milan è l'italia l'italia è del milan a tutti andava bene la pochezza 4 post quarto posticino e tutti in vacanza dal primo all'ultimo per fortuna abbiamo gettato le basi ma ma che basi che abbiamo gettato buonasera a tutti c'è anche stefano matt vincenzo paolo dario allora allegri out che fiocca d'altra parte ho messo la maglietta anche per per dare un messaggio ben preciso al contenuto relativo al contenuto di questa diretta allora andremo a vedere vi mostrerò anche dei tweet intanto volevo fare una piccola precisazione perché purtroppo pur avendoci lavorato tanto ma evidentemente non abbastanza bene e avendoci dedicato tanto spazio devo comunicare che il mio nft che avete visto nel video che è uscito un giorno fa 24 ore fa e di cui gli abbonati erano già a conoscenza è per il momento sospeso per un mio errore tecnico cioè non l'ho messo in vendita in un quantitativo multiplo insomma cioè ce n'era uno solo ecco quindi lo dico anche a chi non sono riuscito a contattare tramite discord ed è in ascolto che ha acquistato anche se l'hanno acquistato in due o tre il problema ha acquistato l'nft ma rimborsato ci sarà rimborso integrale direttamente dalla piattaforma a intanto ci sono problemi tecnici di nuovo su discord ragazzi mi sentivate no ecco su youtube però sta andando tutto bene quindi la conferma che c'è un problema tecnico di discord ecco infatti anche adesso vedo che va e viene il segnale quindi vediamo se riusciamo ragazzi io faccio una cosa adesso disattivo anche io la via webcam qui su discord vediamo se può essere quello il motivo cerchi a cercare di sentire i ragazzi collegati proviamo a fare come prima fare come prima una prova tutti quanti allegri out qualche segnalazione sul discord pronto io vi sento io vi sento ragazzi voi mi sentite adesso sì ecco adesso sì allora facciamo di nuovo una prova diciamo tutti allegri out allegri out allegri out allegri out allegri out vabbè mattia giustamente milanista comunque diciamo che in questo momento funziona ragazzi speriamo non ci siano problemi tecnici purtroppo proprio stasera hanno deciso di fare qualche lavorino su discord e quindi potrebbe esserci qualche problema tecnico dicevo comunque il nft è sospeso al momento perché invece di metterlo in vendita in tiratura multipla e ce n'era uno solo quindi tutti quelli che l'hanno acquistato saranno rimborsati automaticamente e integralmente se non vi arriva rimborso integrale ovviamente mandatemi un email contattatemi ci penso io poi riprenderò questa iniziativa con la stessa grafica cercando di spostare su un'altra piattaforma lo dico per chi è interessato perché faccio la figuraccia che ieri ho fatto st'annuncio bell c'è poi saltato tutto in meno di 24 ore perdonatemi non ho letto bene non ho valutato bene non so quale è stato il problema stava scritto male ho letto io male comunque c'era un piccolo problema tecnico allora a questo punto io vi introduco il primo tema perché tra l'altro la mia intenzione sarebbe quella di fare uno spazio in diretta di circa un'ora n effettivamente non era in vendita grande antonio è partita già la prima battuta interessante della serata l'ambiente sarebbe di stare in diretta per circa un'ora poi vediamo se andiamo un po più lunghi un'ora e mezzo insomma vediamo vediamo quanto ci trascinano gli argomenti che andiamo a portare e quindi mi nascondo un attimo dalla visualizzazione a schermo per chi appunto per voi che ci state guardando da youtube vi ricordo comunque iscrivetevi al canale per poter chattare per poter dire come la pensate e se volete parlare anche in chat vocale tutto spiegato qui e andiamo vado a mostrarvi ecco aspetta però dovrei disattivare anche me sotto perché sennò vi è malissimo ecco facciamo così il tweet anzi così perfetto il tweet di di roberto baronio che è stato pubblicato la data 21 maggio alle 10 alle 11 di sera il 21 maggio alle 11 di sera quindi praticamente con la partita della juventus appena finita fiorentina juventus appena finita fiorentina juventus 2 a 0 e roberto baronio su twitter ha postato questa emoji praticamente muta cioè il tweet muto come come si può interpretare come si può definire un emoji senza senza la bocca come a dire non parlo non posso parlare sto zitto e non dico nulla dunque questo questo tweet come potete vedere dalla sempre dalla grafica reca 233 retweet 135 tweet con citazione 1215 mi piace intanto è saltato di nuovo discord aspettate io youtube funziona ma è saltato di nuovo discord quindi vediamo se mi sentite adesso ragazzi stavo ricapitolando le interazioni insomma in sostanza questo tweet di baroni ha avuto un botto di interazioni ma queste interazioni sono state prevalentemente ma largamente con larga prevalenza negative nel senso che è stato subissato praticamente di anche di insulti e infatti andiamo a vedere la risposta andiamo a vedere la risposta di roberto baronio che è contenuta in altri tweet e allora dice innanzitutto il giorno dopo buongiorno mi sveglio apro twitter e vedo un sacco di commenti offensivi di scherno e di scerno comunque di scherno eccetera nei miei confronti per cosa per una faccina che voi avete interpretato a livello sportivo chi mi segue su altri social sa che a casa sto conoscendo una situazione che mai avrei voluto conoscere purtroppo ma questa è la vita e la si affronta a voi dico non interpretate ma magari chiedete e non sfogatevi con le cattiverie perché già ce ne sono troppe e anche più importanti di una mia semplice faccina ultimo tweet di risposta di baronio è ma se prima di giudicare si sapesse veramente a volte ci sono a volte ci soffermiamo sulla copertina alla copertina e pensiamo di sapere e capire come sarà il finale head head height è il suo messaggio conclusivo e quindi adesso ritorno con la visualizzazione mia scusate un attimo eccoci qui perfetto mi vedete adesso questi sono i tweet allora adesso interpelliamo anche la chat vocale chat testuale ditemi come la pensate intanto che risenti se avete seguito forse adesso non mi state neanche più vedendo no no ti sentiamo male aspetta quello quando faccio il cambio di scena suo bs mi va sempre tutto in mi salta sempre tutto adesso si sta ripristinando credo sì perfetto allora purtroppo quando faccio cambio scena sul sul software succede che sballa un attimo sono andato un po di lag quindi dicevo avete visto il tweet innocente sembrerebbe di baroni ora io sinceramente non lo so non mi permetto di giudicare che situazione a casa che cosa sta passando di nuovo discorde che non stasera proprio buona sera anche a isma ragazzi allora come va l'audio adesso va bene buona sera buona sera viene purtroppo grazie l'audio è peggio della us l'audio è peggio della juve però francesco ci sta tutto quindi dicevo ha fatto questo titolo mi permetto di andare alla situazione familiare non so che cosa sta vivendo ci mancherebbe altro non sappiamo neanche se effettivamente il suo tweet appena finita fiorentina juventus 2 a 0 non riguardava la juventus facciamo conto che ci fermiamo al tweet postato proprio nell'immediatezza della partita del fischio finale lasciamo stare le sue spiegazioni eccetera concentriamoci sulle risposte se voi andate a recuperare questo tweet sul profilo di baronio trovate effettivamente insulti attacchi battute battutine frecciatine alcuni anche divertenti per carità però veramente una montagna anzi direi una valanga di attacchi nei confronti di roberto baronio che come sapete è stato assistente di pirlo la scorsa stagione alla juventus è ancora tesserato della juventus perché comunque non sono stati già hanno ancora un contratto quindi non hanno trovato un altro un altro club né pirlo né lui solo tudor e poi infatti c'era tudor che era vice allenatore e quindi la cosa su cui vorrei soffermare con voi nel chiacchierare leggendo poi anche la chat e poi adesso era questa l'introduzione e questo è la reazione vehemente aggressiva violenta di tifosi della juventus forse allegriani forse erano prevalentemente di quel tipo di tifosi la juventus che dipende a spada tratta allegri e quindi parte lancia in resta per attaccare chiunque osi mettere anche un emoji muta che forse significa sto zitto meglio che non parlo perché se parlo devo dire come è andata male questa stagione come se non si potesse dirlo come se non si potesse dirlo permetto tra l'altro che non ho nessun motivo per difendere roberto baronio in generale come assistente tesserato della juve quant'altro questo era il primo tema che vi volevo sottoporre e ci portiamo allora a parlare degli allegriani e dell'aggressività che stiamo vedendo comunque che stiamo vedendo comunque sui social poi però c'è il tweet di bonucci che è anche molto importante faccio un recap della chat vocale allora abbiamo isma nicolas francesco costantino giovanni leonardo livio simone mattia fabio silvia simone e adesso entrata anche stefano buonasera di nuovo a tutti sembra che discord stia funzionando si allegri bravo stefano allora chi vuole prendere la parola per primo cerchiamo di prendere la parola un po tutti poco la voce un pezzettino per volta o qualcosa su questo episodio e come la pensate soprattutto all'aggressività che ha ricevuto roberto baronio al posto perché per l'altro ve lo condiviso quel twitter io l'avevo condiviso su lasciate diciamo degli abbonati il posto sì sì vai allora no io sì no ti sento più non ti sentiamo leonardo ma credo che abbia disattivato il microfono più che altro non è connessione io l'ho disattivato sì no nel senso forse ti era saltato il dito probabilmente sì comunque ho visto ho visto che hanno interagito alcuni membri di una determinata community che conosce molto bene ma siccome ci sono state centinaia di interazioni quindi veramente si trovava qualunque ma diciamo che due che so che sono membri diciamo di quella francia chiamati degli juventini sì noi non deviati ecco leonardo non ti sentiamo più allora io con il mio nft sono meglio di agnelli con la superlega bravo daniele è un disastro va beh comunque se sperando che non si che non salti di nuovo e il dito ce l'ho premuto vai vai veloce vai veloce dai così anche con commenti del tipo che quando è che quando è no è saltato di nuovo allora dopo recuperiamo leonardo chi altri stasera c'è tipo in due parole di giovanni junior vai tu vai tu no è infatti vedi adesso che ti ho detto dicevo giovanni junior vai tu ma era saltato di nuovo discord comunque chat youtube vi leggo quindi se c'è qualche commento interessante cioè o meglio sicuramente ci sono vi leggo quindi scrivete anche non preoccupatevi se abbiamo problemi tecnici audio che è solo stasera poi saranno sicuramente risolto perché non dipende da noi purtroppo ecco leonardo per esempio mi chiede non c'è il bottone join sulla chat degli abbonati non capisco come entrare allora leonardo devi seguire la procedura che è spiegata qui sotto e nel commento bloccato in chat per cui devi associare il tuo account youtube con cui sei abbonato al tuo account discord così da avere tutti i privilegi e vedi tutto se sei entrato su discord senza aver fatto l'abbinamento sostanzialmente come se fossi un utente non abbonato buonasera a tutti comunque allegri in allegri love no questo no allegri out stiamo dicendo e niente ragazzi discord discord non va non va veramente che dice allegri out non si sente più l'audio va veramente va veramente va qualcuno che riesce a dire due parole due proviamoci io vai provaci 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 io allora io io non faccio testo ma twitter non è che twitter non è che lo frequento molto no a parte questo la reazione aggressiva c'è questi allegri anni secondo te sono come dire in questo momento secondo voi sono in questo momento è un po irascibili cioè non riescono a star calmi e chiunque dica minima cosa saltano pazziscono io tempo fa stavo dicendo che ha messo una cosa su twitter molto molto diciamo pacifica comunque fu attaccato quindi quindi anche patrick non ha neanche senso commentare queste idiozie perché sono l'ordine del giorno infatti non è neanche il fatto dell'aggressività in sé come dicevo è un segnale visto che poi restando in tema twitter abbiamo anche un bel hashtag che è quello appunto di allegri out che è andato in tendenza come vi ho messo nella community l'altro giorno l'ho postato qui su youtube e quindi andando in tendenza allegri out anche se non tantissimo era una tendenza diciamo un po marginale un po dipendeva non si vedeva sempre dipende da anche dagli interessi di chi era presente su twitter del singolo soggetto diciamo anche questo magari significativo cioè stiamo prendendo piede stiamo prendendo corpo noi tifosi che siamo critici e anche quelli specificamente che vogliono l'esonero di allegri questo sta generando il non dibattito stiamo andando a mio avviso verso il non dibattito cioè si va verso il partito preso c'è un ex assistente dell'avventus ancora tesserato che magari sbagliando fa un tweet effettivamente interpretabile che viene interpretato però malissimo e si becca gli insulti personali gli attacchi e gli insulti personali questo è il discorso allora io vorrei fare una domanda un po più di caldo se il discord funziona vi vorrei sentire tutti vaism ma io volevo chiedervi magari cioè non so se più che questa reazione proprio degli allegriani come voglia chiamare volevo chiedervi che sembrano ormai parecchio preoccupati anche per la sensazione la posizione di allegri futura e presente sì volevo chiedervi se secondo voi può essere lo specchio della società la preoccupazione nello specifico agnelli la preoccupazione dei tifosi ma infatti ci sarebbe anche questo da dire dopo ci arriviamo perché dobbiamo parlare del tweet di bollucci che davvero è molto importante il tweet di bollucci è stato sottovalutato ma secondo me è davvero molto importante dopo ne parliamo questo è un tema interessante come la pensate questi tifosi che sono esasperati direi isterici non solo delusi contrariati come sono io per esempio come sono alcuni qui presenti in chat quindi più che altro per i risultati quindi legandosi a quello che è successo non alle singole persone ma proprio tifosi che sono che si mostrano un po isterici possono tradire il fatto che c'è meno certezza che la baracca vada avanti così come c'è qualche possibilità che ci sia un cambiamento una rivoluzione questo è diciamo anche per interpretare la domanda stefano secondo me è un discorso un po più ampio nel senso che al di là del fatto che gli insulti mai questo nessuno ma quello lo diamo per scontato penso in questa community il fatto è questo è che penso che anche la è più facile esternalizzare la sofferenza prendendosela con qualcuno sì la sofferenza sia sportiva della juventus sia del fatto che probabilmente sono rimasti delusi non delusi ma non delusi tanto dall'allenatore ma dal fatto che gli altri in qualche modo avevano ragione anche se ma con chi se la prendono è quello il fatto perché purtroppo davanti all'evidenza non c'è nient'altro che l'insulto è per per difendersi tra virgolette questa pratica questo stoicismo incredibile il problema e poi chiudo è che secondo me da questo in generale al di là di tutto per un tifoso secondo me la prima cosa è la squadra c'è la è la è la juventus per un tifoso non non l'uomo non quindi da il giocatore la diligenza e questa cosa deve un po rientrare secondo me la tifoseria cioè la juventus è anche un po ricordarsi che cosa è stato la juventus io io voglio ricordarmi che cosa oggi la juventus un domani perché non voglio più tornarci esatto sì ma io ho bene in testa la situazione attuale vai junior se posso veramente ora non voglio generalizzare l'etichettare tutte queste persone che di istinto e di impeto definirei alfabeti funzionali ma magari non è proprio questo c'è nella stragrande maggioranza sì ma non è questo importante però io non riesco proprio a capire veramente c'è tutta sta fatica sto stoicismo questa anche insoddisfazione tristezza insomma delusione che anche noi manifestiamo però c'è noi a questa proponiamo soprattutto tu chiaramente il nostro gran visir c'è una soluzione semplicemente sì io io non ho capito veramente c'è perché perché se la son presa così veramente a cuore nella difesa ma non so ne esiste una parola cioè senza senso di aleri a che pro perché per quale motivo solo per fare cacciara c'è solo per fare baccaro e allora in quel caso perché allora in quel caso sarebbero un alfabeti cioè non so se vi spiego si voleva sintetizzare anche questo cioè giustamente dicevate si poteva anche rispondere a quel tweet come magari qualcuno ha fatto con delle argomentazioni dicendo ok se ti riferisci cioè io per esempio mantenendomi calmo avrei detto se ti riferisci alla stagione che appena finita ti dico questo questo e quest'altro magari uno gli avrebbe potuto dire sì però l'anno scorso è che avete fatto niente di straordinario tu l'anno scorso non hai avuto un ruolo rilevante anzi forse cioè nel senso hai avuto un ruolo troppo rilevante per quello che poi materialmente hai fatto cioè queste sono argomentazioni da poter fare io direi però magari scusami sì in generale non c'è voglia non c'è voglia di mettersi lì ad argomentare perché c'è la voglia sta frenesia cioè che ti esce proprio dalle mani o dal cervello di cioè insultare di fare in questo modo perché come ti qualifica ma ma per me e io l'ho detto tempo problema tecnico di nuovo per francesco aspetta un attimo siccome sei già intervenuto prima c'era silvia anche così nel frattempo voglia risolvere il problema tecnico magari salta intanto c'è anche constantine che è entrato in chat vocale buonasera costi buonasera vai silvia no dicevo che secondo me questa strenua difesa è un riflesso nel senso che vorrebbe dire ammettere di aver fatto un po la figura dei peracottari per tutti questi anni perché a tutti brucia avere torto a tutti brucia il fatto che la verità ti venga sbattuta in faccia quindi se vogliamo un sentimento molto umano che facciamo un po tutti però diciamo che poi portate all'ennesima potenza c'è un nervosismo che tradisce la consapevolezza che le cose non sono andate bene e ci sarebbero anche delle cose in tanti casi in offesa in maleducazione ma quello sai insomma tutti siamo persone tutti siamo nervosi ma c'è nervoso e nervoso sono persone persone cioè la maggior parte a quanto pare sono maleducate infami perché insultare cioè avere quel tipo di linguaggio cioè non ha poi questo un po anche credo che quel periodo dei cinque anni che abbiamo vissuto comunque molto florido con allegri soprattutto di queste famose due finali che comunque non avvenivano da molto molto tempo hanno fissato nella mente di tanti tifosi come diciamo il periodo più bello degli ultimi dieci dieci anni o poco più e quindi sono rimasti legati a quella a quell'idea di una juve che ormai non c'è più sì cioè si fa fatica anche a ad ammettere ad accettare l'idea che è finita con la juve con il sentimento avevate per esempio c'è lì che aveva fatto però quando si era andato e quando poi è tornato cioè nel momento se ve lo ricordate come face questo sentimento lì sicuramente va beh quello magari lo possiamo recuperare dopo in coda questo argomento se vogliamo leggo un po leggo po di chat di chat youtube per esempio padre che dice che non ha senso parlare di allegri out senza dire agnelli out perché bisogna estirpare il male per eliminare tutte le conseguenze che ne derivano tra cui appunto allegri in panchina con il disastro di questa stagione posso dire che abbiamo fatto una stagione dignitosa no se ha fatto peggio del predecessore no infatti non si poteva dire che è stata una stagione dignitosa ripeto allegri sabato ha detto abbiamo chiuso degnamente la stagione quindi degnamente nel senso male come è stata come è stata condotta poi per esempio c'è marco che dice la dirigenza è orgogliosa di non fare un tiro in porta nedved che viveva di tirare in porta non gli fa vomitare guardare un gioco così evidentemente dovrebbe essere così dovrebbe notare questa cosa farla pesare grazie intanto a federico grazie per il contributo domanda ha senso parlare sempre di allegriani e anti allegriani ormai è questo non sarebbe meglio unire la tifoseria bene facciamo un passaggio su questo facciamo passaggio su questo poi leggo qualche altro qualche altro commento in chat certamente si dovrebbe unire la tifoseria però ed è per questo che stasera vi voglio portare questo argomento e poi andiamo su bolucci perché per dimostrarvi che purtroppo te li trovi comunque davanti te li trovi comunque dappertutto a me ieri che tra l'altro ero in giro non me ne interessava neanche di scrivere guardiola vinto la premier league perché l'ho scritto perché lo so che i cosiddetti allegriani erano pronti in caso in cui il manchester city avesse perso ieri la premier a gridare il loro trionfalismo e allora siccome erano pronti nel caso in cui gli andava bene come è successo in champions vi ricordate ci siamo divertiti a guardare le partite facendo finta che ci fosse l'allegrismo da portare in finale che cosa è successo poi quando il vigliarreal battuto il bayern monaco erano tutti pronti e poi però quando è stato eliminato il semifinale si sono sentiti tutti quanti contro il liverpool e quindi te li trovi davanti tanto vale provare in qualche modo a contrastarli con le argomentazioni con il calcio la speranza di unire la tifoseria credo credo sia questa di ritornare un po tutti a parlare di calcio evitando di continuare ad andare per insulti attacchi ed etichette solo che devi anche un po abbassarti al livello di qualcuno se quel qualcuno non riesci a dialogarci ma qualcuno è professionista e ti supera a volte poi si può dire un attimo un attimo un attimo c'è Mattia il tifoso del Milan che ha la priorità perché è campione d'italia e un applauso a Mattia complimenti vabbè applauso grazie grazie per la priorità comunque sia al di là del discorso allegriani pronti ad esultare per la sconcita di Guardiola che poi non c'è stata ma non mi risulta che qualora Guardiola avesse perso ci sarebbe stato un allegri di tutto cioè c'era Klopp dall'altra parte bravo da ieri stanno festeggiando perché per il trofeo lo scudetto non l'ha vinto l'Inter che trofeo è? davvero ci sono alcuni che sono contenti di questo io contenti l'or cioè mi fa anche piacere trovare della contentezza dove non c'è è sempre meglio di trovare della tristezza però davvero come si concilia questo con l'essere tifosi della Juventus che vogliono il bene della Juve quindi di esserci noi di nuovo a vincere lo scudetto buonasera intanto anche a IlProf ed Elio che si sono uniti in chat vocale allora qualcun altro che voleva intervenire poi andiamo su Bonucci perché su Bonucci abbiamo qualcosa di diciamo non più interessante ma più pratico più più no perché loro sono professionisti negli insulti e ti superano quello è vero sono abituati a farlo tutti i giorni siccome poi ci sono passato anche su Twitter a prendere insulti quindi è ancora è continuo ma basterebbe prendere gli estratti delle live in cui partecipi quando ti trovi a confrontare con direttamente che alla fine si riduce a una roba casciarona che alla fine non porta però a un vero dialogo nel senso a me piacerebbe che ci fosse un'interazione in questa posizione del mondo ma tutte le volte che c'è stato un tentativo di confronto è però ha vinto 5 scudetti è però ci ha portato due volte in finale di Champions il lotempo tra l'altro un po' così mi verrebbe anche da dire commento interessante è questo di James James dice io però vedo insulti pesanti anche nei confronti di Allegri e di Agnelli quelli vanno bene? no no infatti insulti ad Allegri e Agnelli dalle nostre parti non li avete sentiti dalle mie parti qui non ci sono stati le critiche possono essere stati anche pesanti possono essere stati anche pesanti ma la critica pesante è sempre una critica l'insulto, la mancanza di rispetto dalle mie parti non ci sono state e infatti non ne sono neanche giustificate io ho parlato dei fischi ad Agnelli che era diverso dopodiché ecco vedi però questo è interessante sul discorso insulti però sul motivo per cui da una parte si critica Allegri dall'altra parte si fa muro perché non si può criticare bisognerebbe dire qualcos'altro è lì il terreno di scontro vero perché c'è chi difende Allegri e ha paura che venga criticato e si risente se viene criticato qual è il problema di criticare Allegri se le cose non stanno andando bene l'interesse del tifoso di Aventus o qual è? che le cose vadano bene o che Allegri venga protetto? per girare ancora la domanda infatti secondo me collegandomi a quello che è stato detto prima l'unico modo per unire la tifoseria è avere una Juve forte e l'unico modo per poter parlare di calcio è vedere una Juve che gioca a calcio ma l'abbiamo visto anche noi quest'anno nelle live è stato un continuo di crescere fino alla cacciara praticamente cioè di calcio non si è più parlato quando si guardava la Juve si parlava molto di più di calcio quando si guardava un'altra squadra cioè noi abbiamo guardato le partite per vedere come giocavano gli altri fondamentalmente beh ma è solo il fatto che noi stiamo facendo questo discorso cioè dimostra che di calcio non c'è noi alla fine stiamo ancora intrattendo il solito discorso di Allegriani che parlano Allegri sì, Allegri no cioè alla fine è come se stanno vincendo loro perché la realtà è questa cioè rifatto la realtà, il dialogo è questo cioè include siamo circondati io mi sento circondato la nostra community e ringrazio tutti quelli che ne fanno parte perché è merito vostro soprattutto è un bellissimo spazio su tutto il server Discord con tutte le chat venite a farne parte se volete c'è il link in descrizione ovviamente ci sono tante chat gratuite aperte a tutti dove sono dette cose interessantissime sull'Inter, sul Milan, sulla Serie A sul calcio europeo, calcio internazionale soprattutto in questi giorni però poi intorno ci sono altri begli esempi però c'è anche tanto marcio dove appunto non riesci a confrontarti allora noi facciamo bene a continuare a fare la nostra community però c'è anche secondo me da sottolineare che cosa succede fuori e perché perché quello è anche una motivazione di continuare a fare community in un certo modo perché devi contrastare gli altri che non lo fanno devi contrastare gli altri che appena fai una critica ti insultano bisogna conoscere il nemico tra virgolette quello volevo anche dire infatti non ci si abbassa a questi livelli per rispondere motivando si abbandonano al loro destino che è essere marginati fino a scomparire nella vita non si è obbligati a rispondere a tutti e giustificare dice Patrick il problema però è che comunque ti condizionano e qui veniamo e qui veniamo ad un tema più dicevo più concreto che è quello del tweet di Bonucci nel senso non c'è stato forse un condizionamento nelle scelte di Agnelli quella Allegrin l'hashtag Allegrin richiamare Allegri da parte il condizionamento rispetto a questa parte di tifoseria che Agnelli sapeva che sarebbe stata la parte fondamentale perché tuttora credo siano la maggioranza della tifoseria a sostegno del suo nuovo progetto Max secondo me due conti Agnelli se li ha anche fatti ha detto richiamiamo Allegri che così il consenso sale alle stelle perché i tifosi sono delusi Allegri mette tutti d'accordo c'è stato anche questo pensiero e allora vedete che non è ignorandoli che possiamo tra virgolette batterli e risolvere questo problema purtroppo bisogna conviverci dobbiamo sapere che sono lì e che hanno anche un peso politico io credo che abbiano anche un peso politico e intanto grazie ad Armando per essere entrato in Alcim FC per la prima volta direttamente dirigenti quindi se vuoi ti aspettiamo anche in chat vocale ditemi su questo come la pensate poi andiamo su Bonucci il tweet di Bonucci molto importante andiamo su Bonucci andiamo su Bonucci va bene vai Fabio vai Fabio e poi andiamo su Bonucci io direi che questo è figlio della società in cui siamo perché qua l'odio è di facile diciamo costume mentre le persone buone ed edicate non vanno da nessuna parte cioè perché ha credito in questo motivo per così poco evidentemente c'è dietro tutto un diciamo così una forma mentis che non è produttiva ed ecco allora il tweet di Bonucci il tweet di Bonucci che però è un po' piccolo cerco di leggerlo dalla mia visualizzazione allora dice il tweet che è di ieri pomeriggio ieri pomeriggio e ieri sera ha postato una foto della squadra l'ultima formazione l'ultimo undici titolare a Firenze una sua foto in quello stesso undici titolare e ha scritto è stata una stagione non all'altezza della maglia che abbiamo addosso la prossima dovrà essere diversa perché alla Juventus vincere è l'unica cosa che conta scritto a caratteri cubitali vincere è l'unica cosa che conta punto allora questo tweet perché ve lo presento e perché ne parliamo per cercare di capire se Bonucci può essere individuato come il nuovo capopopolo di un golpe interno dal basso clamoroso che va a destituire l'agnelle Grentus e quindi ci libera dal male tra virgolette e quindi va a cambiare un po' la situazione perché l'avrete già capito al di là delle chiacchiere di Bonucci che leggo Bonucci straparla adesso in chat indubbiamente messaggi malsani in realtà il punto è un altro come avete sentito come ricordate come ricorderete Allegri intanto lo tolgo il tweet perché insomma l'avete visto Allegri per tutta la stagione è passato dal dire proprio solo all'inizio dobbiamo vincere il campionato al dire fare il quarto posto sarebbe comunque un ottimo risultato risultato straordinario e lo ha ribadito anche poi che l'abbiamo conquistato mentre abbiamo arriva bene quindi quarto posto risultato straordinario abbiamo arriva bene che proprio l'altro giorno proprio l'altro giorno ci ha infatti veramente portati in estasi con una dichiarazione ma meravigliosa ma di quelle che proprio il dna juve ma proprio ce l'hai ce l'hai a mille e cioè vincere è l'unica cosa che conta sì ma entrare in champions conta altrettanto ha detto Maurizio arriva bene allora che cosa voleva dire Bonucci niente classico proclama frase fatta niente di significativo prima opzione seconda opzione assumere una posizione come suo suo solito adesso da novello capitano cioè di fare il capo il capetto più che altro da un punto di vista comunicativo ma poi non nella sostanza e quindi acquisire consenso come dicevamo prima però poi alla fine non fare nulla di pratico oppure clavurosamente incredibilmente Bonucci e Stufo magari ha litigato con Allegri e ci teneva a far sapere a noi tifosi che lui è dalla nostra parte nel senso che è d'accordo con chi dice che la Juve deve vincere e basta e che tutti questi tutte queste titolurgie tutte queste chiacchiere devono essere accantonate perché alla Juve vincere è l'unica cosa che conta appunto senza altri condizionamenti senza altri altre opzioni come la pensate la A o la B o la C la 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 Bo o la Nucci vabbè questa era bruttissima comunque allora Simone vai Elio io mi sentite? sì no aspetta vai vai che c'è stato un problema su Discord adesso puoi andare o almeno adesso io riesco a vedere tutto ok però non so se mi sentite mi sentite adesso? Discord chat ora sì perfetto vai Elio eri un po' wanna gana ok vai Elio forse ho problemi con Discord sì 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 ci sono problemi si è pagato benissimo stasera non c'è stato nessun problema è andato tutta la grande ragazzi una meraviglia non c'è stato nessuno ok allora ci sono ancora problemi tecnici non Discord aggiungo un altro aggiungo un altro io sento bene comunque perché sentite voi io si sente bene siamo tutti mutati per non fare casino ok ok guardate che funzioni è funzioni di scopo vai Giovanni vai non ho capito cosa hai detto non ho fermato ma non capivo ah allora non avete sentito però ho fatto quella parte lì allora dicevo secondo voi avete sentito gli allegrani che tirano tirano di sass avete sentito i tweet di bonucci ma non abbiamo capito ma sapete che siamo stati all'era che praticamente gli agendiani Simone ti si sente su YouTube ma non su Discord eh lo so è quello il problema Stefano mi dovete allora dovete non so come dirvi perché altrimenti giustamente siete scomodissimi a tenere aperto YouTube e Discord poi magari mi sentite a doppio e quando parlate vi sentite anche a doppio quindi dobbiamo aspettare che Discord riprenda io per il momento ho connessione alla videochiamata tre barre verdi tutto perfetto tutto pulito va bene non sta andando non mi state sentendo va bene allora appena si sarà riportato prestinato adesso non so come lo dico magari a qualcuno che è in chat vocale mi sente da YouTube appena mi sentite di nuovo da Discord prendete pure la parola poi la recuperiamo questa è la prima iniziativa di una rubrica allora io volevo fare una domandina andremo avanti vai vai Elio proviamo ragazzi funziona Discord ok non a tutti eccolo come fa Bonucci ad Ergersi come monumento della Juventilità quando se ne è scappato per andare al Milan per vincere lo Scudetto secondo lui questo per esempio è un tema allora quello voglio ma io voglio dire anche un'altra cosa la spiego pure meglio perché non mi si è sentito però su YouTube mi hanno sentito preciso non è neanche tanto il fatto è tutto così purtroppo non è neanche tanto il fatto ma avete notato che quando Simone cerca di dire qualcosa salta l'audio secondo me ci stanno acerando qua lo dico qua lo dico c'è manipolazione c'è un tentativo di sabotaggio per la fine è lui quello che ha i problemi più grossi ci sta acerando anche lui e lui sì però ragazzi c'è Simone che sta cercando di parlare su YouTube no no ma allora Stefano va benissimo perché ripeto non so bello della diretta c'è problema di comunicazione no ma neanche la diretta perché la diretta sta andando alla grande è soltanto discorso che da problemi non c'è non c'è comunicazione quindi io non so se voi mi sentite voi non mi sentite quindi non sapete cosa sto dicendo e allora è veramente impossibile quindi non so neanche come dire il senso è appena mi sentite bene provate a parlare altrimenti io continuo a parlare su YouTube se qualcuno adesso mi ha sentito da YouTube o anche da Discord no Discord ormai è andato ragazzi allora facciamo così intanto intanto faccio una cosa disattivo l'audio della chat Discord perché altrimenti ci sono soltanto dei richiami ogni tanto tra l'altro adesso mi sa che è veramente quasi saltato completamente quindi mi dispiace per i ragazzi poi recupereremo tanto a proposito gli abbonati al canale hanno la possibilità di dialogare con me in chat privata una volta a settimana quindi magari la prossima volta recupereremo anche questo passaggio e questo argomento però ci tenevo a dire questa cosa poi mi confronto un pochino con la chat YouTube magari Bonucci non ha neanche preso una posizione in un senso in un altro cioè proclama consenso della tifoseria piuttosto che golpe però quello che dobbiamo secondo me prendere in considerazione è che comunque il tweet di Bonucci è in contrasto con quello che hanno detto Allegri e arriva bene comunque è in contrasto quindi il dato alla fine secondo me è che comunque c'è un'anima diversa c'è una spaccatura all'interno della Juventus di tutti questi di tutta questa narrativa di tutta questa retorica il DNA e quant'altro c'è chi non è d'accordo c'è chi dissente ci sono difformità di vedute e come si regoleranno su questo questo è il tema che volevo portare ecco Bonucci cerca lo sgabbello ah ok Giovanni dice che mi sentono anche se io vedo qui però discordo ormai al minimo al minimo minimo assoluto non come se non stessi praticamente trasmettendo benvenuto in Avsim FC Federico allora spero di abbonarmi per entrare come dirigente spiega meglio quando puoi anche i costi ok Emanuele allora sì dovrò fare un video di aggiornamento con tutto quanto per quanto riguarda gli abbonamenti brevemente ci sono tre livelli livello base a 99 centesimi hai la programmazione tutti i giorni con orari e argomenti dei nuovi video e l'accesso a tutte le chat testuali e una chat vocale riservate su Discord oltre commenti in evidenza e la possibilità di chattare durante i miei post partita della Juventus che riprenderanno adesso ad agosto livello intermedio a 1,99 hai anche diverse chat vocali tipo stasera e la chat la live riservata settimanale oltre ad alcuni video in anteprima livello massimo 4,99 dirigenti tutte le chat riservate su Discord tutte le chat vocali in particolare la live reaction delle partite della Juventus cioè chattare vocale con me durante le partite questi sono essenziali poi ci saranno magari anche altri privilegi Agnelli dammi Discord sabotaggio Exor Agnelli Agnelli sabota intanto stasera Dybala gioca già nel suo nuovo stadio San Siro chi lo sa potrebbe anche andare lì effettivamente Allegri esonerato non è ancora successo come è Brucce dice queste cose solo ora altra domanda interessante domanda interessante perché non le diceva dopo i brutti pareggi invece di esultare ecco per esempio ma infatti io non sono non sono dalla parte di Baronio tornando a prima quindi non è che lo difendo mi dà solo fastidio che la tifoseria di Juventina si distingua con gli insulti e gli attacchi invece che con le argomentazioni prevalentemente però non sono neanche dalla parte di Brucci anzi quando ho letto il tweet mi sono anche nervosito perché ho detto adesso vieni fuori vieni fuori con vincere l'unica cosa che conta ma se hai qualcosa da dire perché non lo dici nelle sedi opportune e fai valere il tuo punto di vista questo è il ragionamento che volevo fare però resta ripeto il fatto che una spaccatura potrebbe esserci e magari non la vediamo magari non lo sappiamo i poteri forti agnelliani ti stanno boicottando esatto non so quale sia il fine di Bonucci ciò che so è che sono disposto a sorbirmi allegri anche la prossima e ultima stagione a patto che dopo l'ennesimo fallimento sia lui che Agnelli prendano strada sono d'accordo con Michele direi che l'anno prossimo non si può più accettare nulla tanto la chat discord si sta svuotando fatemi un attimo scrivere al volo qui di fianco a tutti quanti che sostanzialmente non si riesce ad andare avanti faccio un attimo un piccolo avviso ragazzi alla mia chat discord tutti quelli che stavano partecipando allora segnale bassissimo non vi sento probabilmente nemmeno voi mi sentite riproviamo dopo vai scritto ritorno qui ok e ci siamo vediamo gli ultimissimi commenti intanto secondo me il tweet di Bonucci ecco infatti i ragazzi che stavano in chat vocale adesso giustamente scrivono secondo me il tweet di Bonucci è il passaggio di testimone da capitano finalmente ha raggiunto quello che voleva questo sì questo sì è lui che si mette con lo scettro sul trono quello sì ma per dirci cosa può cambiare qualche cosa perché Bonucci è insoddisfatto Baroni ha fatto benissimo hanno cacciato Pirlo per prendere Allegri che ha fatto pena ci sta che provoca ma anche secondo me ci sta che provoca infatti ma anche secondo me poi però non si è assunto la responsabilità di aver provocato perché ha detto ho problemi familiari mi riferivo ad altro a proposito piccolo test piccolo test vedo che la mia il mio segnale discord va di nuovo bene mi sentite? no no non risponde nessuno quindi è andato sì stasera discord un saluto da parte di mio padre Sandro ok ciao Federico e ciao Sandro un abbraccio entrambi Costa dimmi adesso sì qual'è il problema? mi sentivano prima anche prima ovviamente c'è stato uno scarico quindi andava fluido quindi si sentiva bene ah quindi no perché a un certo punto io avevo detto avevo fatto un discorso lungo e vi sentivo che facevate dei segnali come a dire non abbiamo capito e poi mi avete proprio detto non ti si sentiva quindi ho detto vabbè allora è saltato tutto per non so quanti minuti adesso va bene? eh questo penso sì pare di sì vabbè comunque discord ha dato problemi stasera ma non del tutto comunque vi stavo leggendo anche in chat youtube allora Bonucci che ha fatto? che ha scritto? che vuole? dai vabbè chi vuole dirlo? eh non va di nuovo vedi vabbè ti ho appena parlo adesso adesso funziona 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 dai allora ragazzi Bonucci come la pensate sul suo tweet? che cosa voleva dire? secondo voi ha preso posizione? c'è un golpe in corso? buonasera anche a Matteo intanto che è entrato l'unico motivo per cui ha detto queste cose secondo me è per un motivo molto semplice che se ne ha detto Chiellini quindi qualcuno dovrà pur scrivere può farne le veci diciamo così io purtroppo poi dopo non mi esprimo più perché altrimenti scendo nella eh tweet aziendalista leggo anche in chat addirittura aziendalista com'è possibile? semplicemente perché recita il motto però questo motto è stato disconosciuto da alcuni della stessa azienda poi ancora chi parla? Bonucci è uno che da un colpo al cerchio è un colpo alla botta cioè uno che non vuole che gli venga toccato il suo posto però secondo me cioè dentro di me lui Allegri non l'ha mai sopportato ma non può essere esplicito perché adesso ha ottenuto quello che ha sempre voluto quindi rimane su chi va là secondo me non prenderà mai una decisione una posizione bella decisa ecco sono d'accordo Silvia fondamentalmente è un discorso anche di non essere prettamente allegriano nel senso di non trovarsi molto bene con Allegri in questo caso lo leggeva anche in chat qualcuno dice è stato sempre prevalentemente Contiano Bonucci è Foggiano se posso dire la mia idea Bonucci è Foggiano Matteo ma come vai Francesco sei bloccato Francesco vai Francesco in un fermo immagine con la zebra già no vabbè vorrei aggiungere solo una cosa che tra l'altro noi sappiamo che Bonucci è sempre stato un gran paraculo e probabilmente lui sapendo che è in viso a una grossa fetta della tifoseria vuole anche cercare di tirarla dalla sua parte quindi secondo te l'ha fatto per consenso come diceva era una delle opzioni probabilmente io penso molto più semplicemente io mi auguro che l'abbia fatto con l'idea che visto comunque anche le uscite dell'allenatore abbia fatto anche per rimarcare il fatto che effettivamente il morte è quello non è arrivare dietro la banda e sperare nelle cadute altrui quindi smettendo in parte Allegri arriva bene anche perché altrimenti se mera propaganda non bastava semplicemente quello che c'era già prima l'hanno fatta è stata fatta per tutta la stagione tra cui anche ora c'è quella della ora la propaganda del continuare della continuità nonostante il troiaio della stagione quindi sempre bene il toscano che tira fuori questi termini così bellissimi vai posso? sì Francesco vai sì ho detto stavo dicendo che Bonucci mi sembra sapete quel gallo che sta sopra le tante case che quando gira il vento sta in una posizione così mi sembra sì quello che segna la direzione del vento però ripeto ma voi lo vedete parlando adesso al di là del politichese adesso il golpe e quant'altro la vedete come una cosa positiva cioè vi dà una speranza il fatto che Bonucci possa rivoltarsi ribellarsi no Bonucci è sempre stato un chiacchierone basta perché non è la prima volta che fa queste uscite così da grande uomo ecco delle belle parole non è la prima volta per me è un chiacchierone sono d'accordo con Silvia a parlare sono bravi tutti su questo sono d'accordo con voi però penso che non che sarà migliore ma come capitano Bonucci sarà più presente anche nelle eventuali sconfitte penso poi magari in campo beh quello l'ha sempre fatto devo dire Bonucci ha sempre ha sempre scritto anche dopo le peggiori partite a differenza di Chiellini Fabio secondo me questo Simone sembrava quasi un suo voler rivendicare diciamo così il fatto che l'anno prossimo dovrebbe essere lui il capitano distaccarsi da questa disfatta per pararsi in un pochino l'altro B anche perché un attuando così non ce lo meritiamo ovviamente certo è certo quindi diciamo lui vuole suonare la carica e prendersi anche la responsabilità di trascinare il gruppo tanto il posto fisso ce l'ha invece dice Patrick Bonucci sottostà alla moglie figurati se si mette contro una società personaggio famoso e fa il tweet per la sua e propria immagine però dicevo comunque al di là delle intenzioni abbiamo una dichiarazione contraria ad altre dichiarazioni ripetute e una recentissima di Arriva Bene che vengono dallo stesso pulpito ma da soggetti diversi e che quindi non vanno all'unisono quindi in questo momento diciamo che qualche cosa sta avvenendo meno a livello di compattezza compresa anche la solidità ritrovata con il buon Max che in realtà non c'è l'avevo provato a dimostrarvelo oggi su Bonucci qualcun altro il buon Matteo per esempio che rientra in chat vocale dopo una vita mi sentite? ah si adesso si vai vai ti sentiamo ah no adesso non sentono più me di nuovo questo è il problema è saltato di nuovo Discord bellissimo allora prendete la parola pure quando volete intanto intanto aspetta c'è il commento Riccardo ce lo proporrete un dibattito con uno youtuber visione opposta beh si possiamo possiamo anche provare nelle prossime settimane vediamo un attimo anche come si evolve la situazione a livello mercato quali sono le notizie che emergono allora mi sentite Discord? adesso mi sembra che si sia ripristinato il mio audio Discord ci siete? no forse adesso sì chi è? sentite? no vabbè stavolta è colpa di Matteo appena detto mi sentite è saltato tutto vabbè a parte cosa doveva scrivere è stata un'ottima stagione così lo perculavano i tifosi no assolutamente no però è proprio quella parte finale infatti Patrick che mi ha colpito la parte finale la frase finale con questo proprio metterla a caratteri cubitali vuole sottolineare che poi alla fine non ci sono scuse cioè se la vuoi tradurre eccoci eccoci qui ma dicevo per tradurre in termini pratici con la frase finale di Borunci vincere è l'unica cosa che conta a caratteri cubitali vuol dire che non ci sono alibi non ci sono scuse che tengano in questa stagione poi alla fine sta parlando di Bala cosa sta dicendo? vabbè tanto poi lo trovo sicuramente scritto sì ma perché è a Milano a partecipare alla partita quella organizzata da Ito a San Siro allora adesso che mi sentite qualcun altro che voleva prendere la parola e poi possiamo anche chiudere andare verso la chiusura chiacchierando invece della situazione Pogba e di Maria diciamo che come dire peggio che andare di notte nel senso no dico se qualcun altro voleva dire qualcosa non ci sono andiamo sulla situazione siccome ci sono stati problemi tecnici allora magari mi sono perso l'opinione di qualcuno non mi va di lasciarvi insoddisfatti l'unica cosa però questo può essere per le prossime volte l'idea che siccome abbiamo cambiato per quattro stagioni di file d'allenatore dovremmo invece questa volta continuare l'andamento lento ma questo può essere un argomento per le prossime volte la butto là intanto sì bisogna vedere ad agosto ad agosto si vede se quelle sono state chiacchiere o un vero discorso programmatico posso dire una cosa che questo andamento lento a qualcuno è andato bene eh appunto c'è qualcuno che dice che la stagione tutto sommato non è da buttare è stato un santo andamento lento intanto Di Bala ha detto nulla si unirà all'argentina qualcuno quest'anno è stato chiesto al PSG e lui ha detto non sa cosa farà eh aspetta che adesso di nuovo non mi sentono sì sì ti sentiamo ti sentiamo ho detto che per me per qualcuno quest'anno è stato un santo andamento lento ma tu intendi nel senso che per Allegri è andato tutto bene cioè lui ritiene che sia andato tutto bene per Allegri e anche per Agnelli come si fa non si può non essere soddisfatti di questa stagione ha detto il nostro presidente ma benissimo una cosa sola quello che ha detto Bonucci in realtà che dicevi te prima che è l'unico in questo momento che ha detto che praticamente questa stagione non è andata bene infatti io dico ma perché Allegri non poteva dire questa stagione non è andata come volevamo non è andata bene l'anno prossimo dovremo fare meglio dovremo vincere ecco esatto e poi anche la figura dell'umile così bravissimo non c'era niente di male nel dirlo ma questo è preoccupante perché secondo me sai cosa vuol dire che lui non sa ma proprio è consapevole il fatto di non sapere come fare a vincere secondo me è talmente arrogante che veramente crede che sia colpa dei giocatori e della società e basta si tiene cauto Allegri in questo momento non vuole fare voli pindarici non vuole spingersi come ha fatto a inizio anno scorso a inizio di questa stagione si sente no sono saltato di nuovo si sente si sente grazie ah sì vai allora no 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 è che è intervenuto io aveva detto giustissimo il discorso è non vuole non si vuole sbilanciare ecco non si vuole sbilanciare Allegri perché l'ha già fatto all'inizio di questa stagione e quindi non vuole incappare di nuovo nella figuraccia sostanzialmente allora andiamo su Pogba e Di Maria vi avevo promesso un'oretta di live ma andiamo sicuramente un po' più lunghi perché con tutti questi problemi tecnici sperando che non ritornino e invece già adesso non mi sentono di nuovo altrimenti dobbiamo interrompere prima ti sentiamo mi sentiamo vai no non mi sentono non perché non parlate ma perché vedo la barra le tre barrette con il segnale di discord che mi scendono a uno e diventa rosso allora io immagino che in quel momento lì non mi sentiate perdonatemi allora Pogba e Di Maria perché ne parliamo perché non so adesso come andrà la situazione non so se ci saranno dei risvolti delle novità freschissime già stasera stanotte domattina ci svegliamo e chissà che cosa è successo anche se è difficile perché oggi ci sono stati degli incontri soprattutto per quanto riguarda Pogba e non c'è stata fumata bianca anzi non c'è stata nessuna fumata è tutto rimandato però appunto che cosa stiamo leggendo dopo i proclami dopo il trionfalismo che potrebbero essere giustificati poi dalla felice conclusione delle trattative attenzione cioè non dico che adesso sono saltati dico che potrebbero comunque arrivare alla Juve Pogba e Di Maria o essere già giocatori della Juve e siamo in procinto di apprenderlo però intanto sentiamo che Pogba potrebbe andare al Real Madrid oltre che al famoso oltre che come al solito al PSG che però avendo trattenuto Mbappé adesso non so che mercato vorrà fare mentre Di Maria si è proposto al Barcellona si sarebbe proposto lui al Barcellona noi ricordiamo che Pogba sicuramente è in trattativa con la Juve ci sono stati incontri c'è un avvocato che cura interessi di Pogba che ha incontrato l'entourage della Juventus hanno recepito l'offerta ma non si sono sbilanciati e evidentemente ci sono trattative ma soprattutto richieste anche da parte di altri club segnatamente il Real Madrid Di Maria invece noi sappiamo che lui ha salutato il Paris Saint Germain lo aveva già detto prima che avrebbe voluto comunque giocare un altro anno in Europa per poi eventualmente andare in Argentina e se si è proposto al Barcellona nel mentre che è in trattativa con la Juve vuol dire che non è così convinto dell'offerta della Juve e che comunque sta sondando il terreno per altre destinazioni o magari preferisce giocare alle Barcellona che succede se salta una delle due trattative o magari entrambe vai discorso tutti qua a bere insieme io dico la mia sappiamo il champagne esatto felicità felicità di tutti vorrei ben vedere felicità da parte nostra come tifosi ci sta ma che figura fa la Juve poi quello ha anche un altro barbina ma la figura barbina è anche tutta la classe giornalistica che aveva dato per fatto praticamente l'affare non c'è limite alle figure barbine a quanto pare c'è qualche già ne abbiamo incasellate ma dietro l'altra Gaetano dice che può fare cercando di creare hype potrebbe anche darsi sarebbe l'ennesima presa per i fondelli da parte del solito ignoto perché qua alla fine erano le solite chiacchiere del solito polpo barbina che sta facendo da quando si è andata dal manchester eccolo che sta comunque è chiaro è la solita storia io vorrei aggiungere solo una cosa che il real giustamente potrebbe effettivamente buttarsi su polpo barbina per avere il grande nome dato che è saltato polpo barbina c'è un piccolo problema però che c'è che il real probabilmente a differenza della juve non è così fesso dal punto di vista tu dici della concretezza della trattativa non è così fesso da no allora il punto è il real prenderebbe Pogba a questi costi sapendo tutte le cose che ci siamo detti in passato non lo so quindi tu sei sorpreso magari anche dell'interessamento del real sono un po' sorpreso se devo essere onesto me l'aspetto dal PSG che è una squadra un po' di figurine sì l'ho letto anche da parte di altri un po' di sorpresa anche perché comunque hanno Kamavinga che deve sostituire il trio fenomeni cross Casemiro Modric sì c'è anche Valverde comunque se poi si è più offensivo quindi sarebbe strano effettivamente vedere Pogba e Real Madrid e l'interessamento di Real Madrid per Pogba però lo registriamo sì probabilmente potrebbe essere una cosa fatta dal punto di vista mediatico come dicevo saltato Mbappé ti butti su Pogba che è l'altro grosso nome a parametro zero che si muove quest'estate a parte Tibala ci sarebbe Lewandowski volendo però se fosse una bufala dice Patrick non sarebbe una novità a volte conviene far passare un messaggio perché si lavora su altri profili se fosse una bufala Pogba da parte della Juve credo che voglia dire sì ma infatti io alla fine sono convinto che comunque la società Juventus cadrà in piedi perché cadono sempre in piedi quindi se salta Pogba verrà fuori che voleva troppi soldi oppure non lo so scusa mi senti sì ma a livello di storytelling forse mi sono perso qualcosa perché io poi guardo principalmente i tuoi video che leggere notizie ma sentivo veramente fatta sembrava come che adesso si sta facendo in realtà essere ha detto che era fatta anche per Perisic ma a leggere bene Perisic sta trattando significativamente con l'Inter e potrebbe rinnovare con l'Inter alla fine Perisic o la Juve potrebbe saltare in questo momento per Pogba l'hanno data tutti per fatta perché perché si è detto Pogba ha scelto nel momento in cui c'è una trattativa è chiaro che ci sono tanti dettagli siamo ancora a maggio rimare appunto i dettagli ci sono questioni di soldi questioni anche giuridiche commerciali nel senso proprio diritti d'immagine e quant'altro però nel momento in cui c'è una volontà si registra la volontà del giocatore e il resto va da sé alla fine perciò era stato detto è fatta e anche per quanto riguarda Di Maria e soprattutto si stava raccontando in maniera appunto trionfalistica di una Juve ormai determinata a chiudere per Pogba e per Di Maria a giorni può darsi io non dico che non sia così dico che in questo momento clamorosamente potrebbe saltare tutto che non ce l'aspettavamo comunque una variazione del percorso noi pensavamo addirittura che oggi potesse già uscire l'annuncio ufficiale ci avevano fatto capire esatto ma anche perché immagino che tu ma il fatto che tra virgolette un parametro zero ci voglia così tanto di essere annunciato diciamo che qualcosa puzza perché per altri ci hanno messo cioè io mi ricordo quando annunciarono Ramsey e Rabiot che lo fecero addirittura Ramsey a febbraio io a febbraio 2019 sì sì ne che lo fecero a fine stagione come si diceva ma ripeto ma qui mi sa che qualcuno che qualche testa cadrà come come dire perché troppo sarebbe veramente un epic fail clamoroso ah sì però c'era comunque sei troppo ottimista sei troppo ottimista a pensare che qualche testa cadrà perché questi sbagliano sbagliano ma impunemente da anni non cadrà niente sono d'accordo come dice Simone c'è l'assicurazione dei quattro anni di contratto c'è la polizza c'è la polizza max esatto furto incendio tutto tutto incluso Stefano dicevi no comunque se saltano se saltano tutte e due mi aspetto un allegri abbronzato in un pomeriggio tranquillo con dietro un muro bianco nero davanti a una telecamera versione andonio però però non abbinavo Max versione andonio sì Leonardo dicevi no dicevo magari non abbinavo non alla puntinassa magari Giovanni Tani sicuramente le sa sì tra l'altro ci sarà una tournée americana della Juventus quest'estate si andrà a giocare quindi forse si gioca anche la Juve forse gioca pure contro Chiellini non lo so perché se vanno a Los Angeles troveranno Chiellini a Los Angeles FC anche se non è ancora ufficiale ma è probabile poi leggo anche ma Demiral torna ecco su Demiral c'è un'altra questione sembra comunque di no perché sembra che l'Atalanta pur non essendo obbligata andrà a riscattare il cartellino di Demiral non obbligata perché non è andata in nessuna competizione europea però lo riscatteranno e sono circa 20 milioni per la Juve una minima plus valenza però comunque un'operazione negativa nel senso che abbiamo pagato abbastanza un giocatore per tenerlo due anni compreso un crociato senza sfruttarlo a dovere per poi darlo via per una cifra di sopravvivenza praticamente di copertura costi ecco domanda interessante da parte di Michael ma perché la Juve non può fare come il Milan perché deve sempre prendere grandi a tanto per poi svenderli a poco perché non può prendere dei Ben Nasser Leao Saleme Kers eccetera ne sarei strafelice ma questo è anche giusto sottolinearlo la giovinezza del Milan sebbene sia la Juventus che significa gioventù ma la giovinezza del Milan che ha vinto lo scudetto con questa giovinezza e è vero che ci sono anche dei vecchi al Milan tipo Ibra tipo Ibra che ha fatto un gran discorso da campione d'Italia alla fine dello spogliatoio che effettivamente con grande grinta gasava però che peso hanno avuto quanto ha giocato Ibraimovic e quanto sposta l'età media rispetto all'età media degli undici titolari del Milan di questa stagione parlando di mercato parlando di mercato la direzione imboccata dalla Juve è opposta mi viene da dire mi sentite? si si Ibraimovic per quello che ricordo forse qualche cosetta di decisivo l'ha fatto però non è stato determinante i fattori determinanti del Milan sono stati appunto nel complesso il gioco in generale l'idea c'è tutto ciò che sta nel sottobosco che abbiamo detto che hai ricordato tu però come giocatori rappresentativi di Leao tonali quindi giovani comunque giovani o giocatori che sono venuti fuori in questo progetto qua Benaser appunto non so se il tuo tra l'altro tonali che abita a tre chilometri praticamente dalla casa mia perché di Sant'Angelo Rodigiano non potete capire gli altarini che gli hanno fatto in questo paese che alla fine è piccolino è bello un ragazzo di provincia che porta a casa uno scudetto a 22 anni è decisivissimo poi tra l'altro meritatissimo infatti meritatissimo infatti a me piace il Sant'Angelo mi piace veramente inizio ad avere quasi una passione nel senso un po' come ammiravo mi è capitato di ammirare giocatori del Milan e di qualche altra squadra in passato che giocatori che avrei voluto avere io e che comunque ammiravo come avversario tonali secondo me prenderà il posto nel mio tifo nel mio seguire il calcio che hanno avuto per esempio i Kakai i Shevchenko i Maldini parlando di Milan davvero tanto ecco poi Bernardeschi per se no Bernardeschi Galetano non so Bernardeschi lasciavano stare che finalmente ci siamo liberati Patrick ricorda che giustamente De Miral ha salutato i tifosi dell'Atalanta ha fatto un post di commiato dai tifosi dell'Atalanta però secondo me è stato anche un po' precauzionale della serie e per il momento io me ne devo andare poi se ci ritroviamo vi saluto di nuovo secondo me però io ho letto ho letto oggi che l'Atalanta pare di nuovo intenzionato a riscattarlo sì lo stavo dicendo prima mi sa che non mi sentite di nuovo lo stavo dicendo prima che effettivamente il riscatto dell'Atalanta non è più obbligatorio a quanto pare perché le condizioni non si sono verificate però comunque hanno intenzione hanno intenzione di prenderlo ah sì vabbè a questo punto facciamo una bella cosa visto che andiamo verso la chiusura soprattutto con tutti questi problemi tecnici non so come andrà magari appena stacco Discord è il software più ed è il canale più funzionante del mondo però una domandina mi è venuta perché oggi ne ho parlato oggi ne ho parlato ne ho parlato di Antonio Conte però non ho parlato della cosa che vi chiedo adesso chat youtube chat vocale ditemi una scelta secca io so già come la pensano molti di voi però voglio vedere un po' qual è la reazione penso di sapere almeno una scelta secca da una parte ti tieni Andrea Agnelli come presidente e poi come allenatore le sue scelte in questo momento Allegri poi vediamo ma le sue scelte il presidente resta lì già so che Patrick sta rispondendo no non ho finito di dire ma Patrick ha già detto no la seconda opzione è se ne va Agnelli e prendi Conte perché chiaramente i due sono a un bivio cioè non vanno dalla stessa parte se c'è Agnelli non c'è Conte se c'è Conte vuol dire che sei andato Agnelli in questo momento in questo momento cruciale della Juventus in cui si deve anche ricostruire soprattutto ricostruire nel senso proprio di risalire ad un certo livello di competitività pur di avere Conte rinuncereste ad Agnelli presidente oppure di avere Agnelli presidente rinuncereste a Conte no 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 in questo momento la seconda tutta la vita domanda quasi in pieno vuoi vincere facile dai ma che domanda è fatemi sentire un attimo Livio se riesce che non l'ho sentito proprio stasera vai Livio ho detto vuoi vincere facile è vero però vedi volevo sapere un po' se qualcuno c'è chi butti dalla torre il giochino chi butti dalla torre il cancio non è molto semplice scusa vedi c'è un plebiscito praticamente infatti Patrick ha detto ma che domande fai cambia le scelte da una parte via Agnelli dall'altra parte via Agnelli io pensavo una roba tipo tieni Agnelli ma con Conte no comunque da separati in casa da separati in casa quello ci divertiremmo tantissimo ma perché non possiamo avere alla Juve una società come il Napoli con De Laurenti allora io ti faccio un paradosso ti faccio un paradosso diciamo che Agnelli prende Conte sì e non vince niente secondo te che succede? cacciano Conte Agnelli me l'avevo detto fa gli hashtag come Minnesota dice praticamente come il ragazzino secchione no che ti fa ma che niente l'avevo detto ragazzi non è escluso che non succede Agnelli prende Conte e Conte non vince niente e poi che succede? comunque secondo me Conte non vede l'ora di arrivare a una Juve messa di tornare sì però senza Agnelli vorrebbe che coraggio dovrebbe avere Conte per venire adesso alla Juventus veramente lo adurerebbe ma questo punto la domanda è anche perché con Allegri Presidente Allegri Presidente a Lega non è può fare tutto ma chi li deve far fare tipo adesso a Conte quasi andrei proprio con questo Presidente qua nel senso proprio della sfida totale proprio con l'armageddon completo lo ricordo con lo stesso Presidente sarebbe divertentissimo per certi aspetti se succede quello che ha detto prima Francesco dice Nico Agnelli scrive un tweet hashtag Allegri con Conte ancora in panchina sarebbe forse anche capace no dicevo la domanda sembra spiegola sembra ingenua sembra banale però se ci pensate noi siamo qui a dire che un allenatore che se ne è scappato pari non sapremo mai nel 2014 con il ritiro appena iniziato ed è andato anche all'Inter e ha vinto lo scudetto con l'Inter contro la Juve lo rivolremmo sulla panchina buttando via un presidente che sta qui da 12 anni e che ci ha fatto vincere si dice 9 scudetti le coppie dalle supercoppe e siamo andati due volte cioè siamo deviati parecchio o siamo deviati parecchio alla situazione della Juve è grammatica il sindrome della riconoscenza che non porta niente ma anche nella vita voglio dire c'era che si vive nel passato cioè in proporzione è ovvio che tutti quei successi valgono tanto però attualmente quanto è un insuccesso cioè capito cioè legittima correre ai ripari addirittura con una scelta veramente così fuori dal mondo la situazione attuale quello io mi chiedo capito è così ma io mi immagino mi immagino un'altra situazione diciamo che John Elkan diciamo che John Elkan no diciamo John Elkan non sapremo mai cosa fare a John Elkan adesso non posso dormire stasera gli fanno un contratto di tre anni e lui in tre anni non vince niente si ma a Conte sempre si no lo mandano dopo due non arriva al terzo ma come infatti siamo tutti convinti siamo tutti convinti che se Allegri la prossima stagione fa uguale a questa o anche solo un poco meglio lo mandano perché due anni così non si possono tollerare già uno sarebbe quindi rimane veramente dai per il momento sì noi continuiamo a diffondere l'hashtag continuiamo a diffondere l'hashtag e a farci sentire o come dice Patrick a scrivere Agnelli out perché quello è il vero problema e vediamo che succede e vediamo che succede però Simone io non ho mai io non ho vissuto in realtà quando sei andato con te quando sei andato con te discorda ti ho sempre amato perché ti fai odiare proprio stasera what's happening Stefano dicevi quando sei andato conte mi senti? adesso sì no diceva chiaramente un disservizio proprio a macchia di dolar sono dei cali di rete di collegamento di discord disseminati sui vari server vai Stefano dicevi quando sei andato conte adesso forse non mi sentono loro cioè io penso ci sono un momento in cui salto io un momento in cui salto un'altra è proprio a spot capito niente non lo sapremo mai allora abbiamo saputo più o meno cosa stava dicendo Francesco senti adesso su Elkan mai Stefano no semplicemente ripeto quando sei andato conte io non l'ho vissuto come un abbandono da parte di conte ok no in realtà dici bene io l'ho vissuto come un abbandono da parte di conte e soffri molto quella cosa nonostante non mi fosse simpatico ed ero molto critico nei confronti di conte in quel momento non facevo video non ero sui social però la verità è che secondo me non sapremo mai davvero che cosa è successo che cosa è successo e perché veramente se n'è andato comunque senza rientrare adesso andare troppo indietro con tanti discorsi purtroppo stasera è andata come è andata benissimo dal punto di vista della chat youtube siete stati tantissimi grazie per Francesco sei troppo buono sei troppo buono per Francesco grazie mille grazie è andata benissimo dicevo dal punto di vista della chat della partecipazione siete stati tanti avete scritto tante cose molto interessanti ho letto quasi tutti i vostri commenti li ho letti qui in chat youtube purtroppo discord fa problemi e quindi a questo punto ci salutiamo più di un'oretta ci vediamo lunedì prossimo per questo tipo di format con nuovi argomenti quindi andiamo a prendere il lunedì tutto quello che magari è sfuggito del sabato della domenica anche dei giorni precedenti o del lunedì stesso quindi argomenti magari un po' più marginali ma al tempo stesso interessanti e potrebbe tranquillamente essere la prossima una live pure semplice di calciomercato perché poi iniziamo un po' ad entrarci ad entrare nel vivo e quindi vi ringrazio vi ringrazio tutti soprattutto gli amici sul discord che hanno avuto problemi tecnici a non finire stasera vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi contenuti live e non solo abbonatevi al canale a partito da 99 centesimi al mese e con i vari livelli titolari e dirigenti soprattutto per poter entrare in chat vocale quando funzionerà e funzionerà come ha sempre funzionato per tutta la stagione per tutte le partite mai un problema mai un problema solo stasera mettete like commentate e come dico sempre ci vediamo molto presto e sempre forza you grazie a tutti